ciao a tutti sono valeria di shadowland e oggi andremo a provare il nostro stampo che abbiamo creato nello scorso video del cristallo ametista ho preparato la fill crystal è il colorante viola per evitare che si formano delle bolle nelle punte faccio questo passaggio che ve lo consiglio se volete che il risultato sia perfetto metto una quantità minima di resina con un attrezzo in silicone o uno stecchino quello che preferite vado a far sì che la resina aderisca bene alle parti più piccole in questo secondo passaggio realizzo tre colori sempre utilizzando il viola della reschimica un po di bianco e uno mischiando il viola e il bianco con questa tecnica si utilizza di solito per fare l'effetto marmo nelle creazioni che sono delle superfici abbastanza grandi l'effetto è proprio bello in questo caso voglio soltanto creare qualche venatura di colori diversi che si noterà dal bordo del nostro cristallo una volta preparati questi tre colori vado a versarne uno dentro l'altro non mescolandoli ma cercando di mischiare un minimo sempre con un bastoncino con un attrezzino di silicone per creare qualche venatura una volta completato il tempo della catalisi della nostra resina andiamo a scoprire il nostro cristallo e vediamo un po come è venuto in pochi passaggi con un po di attenzione siamo riusciti a mantenere tutti i piccolissimi dettagli spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale di Reschimica e anche al mio se vi va che trovate nella descrizione ci vediamo al prossimo tutorial e vediamo al prossimo tutorial